Mo' è partito. Ciao ragazzi, siamo a casa sua, siamo andati da Tiger e vi facciamo vedere cosa abbiamo comprato perché delle cose sono anche su, quindi vi facciamo vedere solo dove l'hai preso te. Allora parti da una delle due, dai, questa. E vi facciamo vedere un po' di acquisti, 20 euro in due, dai, dai, nel nostro giro. Io un pijama come mi ha regalato lei, che ha avuto un sacco di successo, sto pijamame. Tu ti ha detto che l'hai preso, te Zedis, ce l'avevo detto. Ma, di base non è neanche per me, nel senso che è per mia mamma. Poi voglio vedere mia suocera con... Ma perché lei, vabbè, fa la maestra, quindi per il carnevale mi ha chiesto di comprare qualcosa di scemo da Tiger. Anche a lei piace tanto come negozio e voleva, boh, puntavo su tutti i pijami. Dai cazzo te ne frega, mica vabbè con il cartoncino. Vabbè, dai, li chiudiamo. Tant'è la pezzetta lì. Vabbè. Non penso si formalizzi. E mi fa, vabbè, prende degli occhiali che mi sembrano una cosa più tranquilla, va bene. Ma non è che ci fosse una grande scelta, sinceramente. Però, vabbè, il Tiger di Bergamo, l'effettivamente non è sempre del fornito, secondo me. E allora, cosa questo? Cagnolino. Cagnolino! Cagnolino! Poi, io vi faccio vedere. Allora, ho preso questo tappetino, praticamente un tappetino per... Utilissimo? No, utilissimo, perché serve praticamente per non... Cioè è un antiscivolo in pratica. Non sto qua ad aprirlo perché c'ha il... Scusa un mare, no? Eh? Io voglio vedere quella... Della tua madre con... Dai, sono un scello. Ed è fatto così. Praticamente voi lo ritagliate per quanto vi serve e serve in pratica per evitare che scivolino le cose all'interno dei cassetti, delle scatole... Quindi se ci metti dentro una banana, non scivole. Non scivole! Ah! E la buccia! Poi, stando in... Ah, perché non scio! La buccia di banana, perché non sciole! Guarda, senti... No, vabbè, lo faccio vedere dopo. Poi ho preso questo per mia madre, in realtà, ed è il tappetino antiscivolo per la doccia. Poi vi dico il prezzo. Questo l'avrò pagato, mi pare, sui 4 euro. Ed è fatto così, con questi... Vedete qua? Sono delle specie di... Ma fai se è letto che cosa ti chiedi? Non esce dalla doccia! No, questo è per dentro la doccia! Ah, dentro! Cioè, dietro ci sono, vedete, le ventose. C'erano di due colori, ma non mi ricordo l'altro che color era. Grigio, credo. Questo è... Io a cercare gli occhiali. Sì, colore azzurro, tipo. Te cercavi gli occhiali. E' per trovare quello. Dov'è il cane, cazzo? E' qua il cane! Oh, fangelo vedere dopo. L'abbiamo salvato ieri sulla strada. Dai, era lì abbandonato e noi l'abbiamo salvato. E niente, questo è antiscivolo con queste cose qua, di plastica. Poi, questo è tuo. Vabbè, te la lavatrice. Vabbè. Mi metti dentro i golfinni, la stasera, cosa scema. Ah, fangelo vedere, cosa scema. Perché invece questa è dell'intelligenza che non finisce mai. E' il sacchettino per quando lavri i biancheria, i due maglietti. Lei prende quello che hai scemo. Invece io ho preso questo, che è un euro, questo me lo ricordo il prezzo. Ed è la macchina per fare i fulmini. Dai, hai una figata. Dai, oggettivamente hai una figata. Certo. Allora, la segnalova, tieni. Un euro. Poi, questi, che finalmente li ho presi l'ultima volta, li ho già aperti questi, eh. Sono stra buoni. Sono praticamente quelli che piacciono a me. Lecca-lecca questi qua della... I lollipop, no? Quindi sto prendendo quelli alla frutta. Invece questi sono alla liquirizia. E questi siamo anche alla liquirizia dei super consigli, perché sono di una bontà che non finisce mai. A me non piace. Eh, perché mi piace la liquirizia. Ma se vi... Credetevi, se vi piace la liquirizia, questo e anche le rotelle di Tiger, la liquirizia, sono stra buone. Poi cosa ho preso? E qua ho scelto. Per due euro vi ho comprato i... Questi qua, i mini-mashmallows. E questi li assaggiamo. Ma non piacciono. Senti, le tue cose non le piacciono perché poi per il resto... Dai a maniare. Adesso andiamo a fare un risotto, come lo facciamo? Due pesci. Quello che ti piace o... Sì. Ma le ho già provate mille volte, non mi piacciono. Allora, sono marshmallows, eh. Sono fatti così. Ma? Una delusione. Mezza delusione. Vi do un boom. Cinque e mezzo. No, sei meno. Sei, 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 sei meno. Perché? È andata però perché... Perché poteva nutarmi? Perché non sono male. No, sei. Non sono i più buoni marshmallows mai mangiati. Eh, wow. Allora, questo boccone l'ha capito. Poi, se qua vi interessa, dal primo marzo... Pulcini. Un'infinità di piccole cose per grandi idee. Utili strumenti per il tuo astuccio a partire da nero. Qua tutte le cartopazze, no? Tutta la gente cartopazza. Eh, belli però carini. Sì. Dal primo marzo andate da Tiger, c'è tutta questa roba qua e c'è anche il pulcini. Noi abbiamo i cani. Noi abbiamo i cani. Poi ho preso per un euro due nastri. Sono rosso con gli animali, qua, della linea nuova che a me piace un sacco questa linea qua. E questo qua blu con i rumbi. Bellissà, la linea nuova di Tiger mi piace veramente un sacco. Poi mi sono comprato i... Utilissimi. Cotton fio... Beh, mazzi cotton fio. Ah, questi qua, dici. E perché piace questo? Io adoro sta puttanata, cazzo. Ho preso il co... Questo... Allora, ho preso i cotton fio, questi, li cercavo neri. Io li avevo già presi una volta al Tiger di Como neri, c'erano azzurri. Vabbè, cotton fio, abbe. Tira fuori i mostri da... Il cervello. Poi, mi sono ricomprato la colla perché siamo andati a trovare Suntina, no? Le ho fatto una scatola di roba di Tiger. Tra qui la colla. Tra qui c'era anche la colla, che era la mia. Però era nuova Suntina, non era, esatto. E ultima cosa, che invece questo ve ne parla lei perché ho già mangiato. Io non l'ho già mangiato. Sono praticamente queste barrette. Al cioccolato con il cocco dentro. Tipo bounty. È buono. Molto buono. Quindi questo mi piace. Un euro due. Sì, ma te... Allora, cosa non ti piace? Vai. Marshmallows, liquirizia... Basta. Trippa. I cachi. Oh, Suntina, veniamo con Suntino a mangiare la trippa, visto che lei non... No, a lei non piace anche a Suntina. La cucina a me non le piace. Il fegato ti piace? Certo. A me non piace il fegato. Voi, i prezzi, il tappetino, ecco l'antiscivolo di quello che ho pagato di più, 4 euro. A me non c'è chi prezzi? Eh, perché magari la gente si fa un'idea. I Marshmallows 2, Lecca Lecca 2. La cosa più cara? La retina tua 1 euro. Ah, la cosa più cara? La cosa più cara? No, la cosa più cara è il tappetino e un'altra cosa 4 euro. Gli occhiali. Gli occhiali. Poi il tappetino 1 euro, il naso che l'ho detto 2 per 1 euro, la barretta al cocco 2 per 1 euro. Basta. Il crea fulmini. Quindi ho 20 euro con 20 centesimi qua di sacchetto, togli i suoi 5, 15, dai, sto giro bravo. Dai, sto giro bravo. E basta. Io ti devo 5. Mi devi 5, chiudi il video però con gli occhiali. Voglio già chiudere. Che coglione, vabbè. Lo chiudiamo, mettiamo degli al cane. E noi ci vediamo al prossimo video che c'è in piedi. Adesso ho quella consuntina, quindi state qui nelle zone dove c'è il video consuntina che stiamo creando la collaborazione. L'avevamo già scritto, quindi devo solo registrarlo. E un video bellissimo in collaborazione con Miriam Creazioni. Quindi abbiamo un'intervista carina, bella. Quindi state qua, state tra di noi. E ora andiamo a cucinare. Ragazzi state bene, non arrivo. E non ci sono i bonghi. Ma...